Il significato delle due testimonianze Cosa significa testimoniare che non vi è il Dio autentico se non Allah? Significa non vi è divinità degna di adorazione se non Allah? Cosa significa testimoniare che Muhammad è servo e messaggero di Allah? Significa che lui, la pace e le abeledizioni di Allah siano sì di lui, è un servo adoratore da non adorare e un messaggero da non smentire.